Ciao a tutti e benvenuti alla presentazione della programmazione Ibiza Baobab 2023, come vedrete è una programmazione che si è pressoché stabilizzata su quelle che sono le strutture che più hanno avuto e hanno successo sul mercato italiano. Rimane naturalmente il grande plus con Baobab di poter prenotare e impacchettare tutto quello che è il mondo del volato di linea low cost ad Ibiza, che veramente su questa destinazione è quasi infinito, quasi non bastava una sola slide per poter riassumere tutte le compagnie, gli aeroporti e gli operativi che come potete vedere in molti casi sono giornalieri o quasi, tra EasyJet, Ryanair, Whaling, Neons, Witzer, chi più ne ha più ne metta, quindi davvero il massimo della flessibilità e semplicità per raggiungere questa destinazione così cara a noi italiani. Come vi dicevo prima, abbiamo pressoché confermato quelli che sono i best seller di questa destinazione, sicuramente riconfermata la collaborazione con la Catena Vibra, con cui collaboriamo molto bene su Mare Nostrum e Algarb, le due strutture, Mare Nostrum 3 stelle, Algarb 4 stelle, a Playa d'Embossa, località molto amata dagli italiani, soprattutto dai giovani italiani che magari in questo caso prediligono il Mare Nostrum per una questione anche di tariffe, ma entrambi comunque possono dare l'opportunità di stare su Playa d'Embossa, quindi su questa spiaggia molto molto bella e nel cuore del vero divertimento ibizenco. Come vi dicevo, Mare Nostrum un pochino più semplice, anche se è stato negli ultimi anni riformato, ristrutturato, anche le camere, standard rinfrescate, quindi sicuramente non è il Mare Nostrum di anni fa che tutti ci ricordiamo come un prodotto un pochino da battaglia per gruppi di giovani che andavano solo ed esclusivamente per far festa, ma se comunque si ha bisogno di un prodotto più elegante, moderno e curato, a questo punto meglio andare direttamente sull'Algarb che è un quattro stelle, questo proprio direttamente sulla spiaggia di Playa d'Embossa. Sempre con la catena Vibra, il Caratarida, altro prodotto storico sul mercato italiano, un prodotto sempre molto apprezzato dalle famiglie, infatti lo abbiamo voluto introdurre, mettere tra le nostre proposte della linea family. Per chi vuole divertirsi, per chi cerca anche tariffe decisamente diverse da quelle di Playa d'Embossa, il Riviera a San Antonio che è un po' il secondo polo del divertimento di Ibiza, secondo solamente a Playa d'Embossa e per questo anche più economico di Playa d'Embossa. Come vi dicevo, riconferme di collaborazioni molto importanti, dopo Vibra sicuramente Invisa è l'altra catena su cui fa perno la nostra programmazione di Ibiza, tra le proposte di questa catena, ricordo l'Invisa Espla a San Antonio in pieno centro e l'Invisa della Cala, invece a Calatarida, su questa spiaggia veramente superlativa, a pochi chilometri da Ibiza città, quindi molto interessante perché si può fare più che una catena durante il soggiorno a Ibiza città, ho voluto fare focus su quello che secondo noi è un prodotto molto interessante, ovvero il Cala Blanca. Ci troviamo, per intenderci, per farvelo subito collocare nello spazio e nel tempo, di fianco al Calaverde, per intenderci. È della stessa catena, è però un 3 stelle, in questo caso con un rapporto qualità-prezzo, quindi con dei prezzi sicuramente molto più interessanti rispetto a quello prima citato. È un prodotto super family, anzi secondo me il più family di tutta la programmazione balneare, pensate che ha un mini club con un'area esterna di più di 5.000 m2, ha camere per 4 persone, ha tantissimi servizi per i bambini, per le famiglie, tra cui anche il noleggio di passeggini, carrozzine, biberoneria, eccetera. Ed è tra l'altro su questa spiaggia spettacolare, circondato da natura verde, quindi sicuramente un posto dove le famiglie, ma anche no, però in particolare le famiglie per tutti i servizi appunto appena citati si troveranno da Dio. Chiudo con quello che è per noi la chicca di Ibiza che non può mancare in una programmazione di Ibiza, ovvero le camere e gli appartamenti all'interno del centro storico di Ibiza, la Dalvila. Sono gli appartamenti della Pepita, ormai chi è vezzo, chi è cliente di Ibiza non può non conoscere Donia Pepita, che mette quindi a disposizione camere e appartamenti monolocali e bilocali, sicuramente semplici, infatti quest'anno abbiamo voluto sottolineare la semplicità della sistemazione di per sé, inserendo il prodotto all'interno della linea Essential, ma se Essential è la sistemazione, Deluxe Luxury è la sua location. Infatti lo stare all'interno delle mura del centro storico della Dalvila è un lusso, un lusso da pochi e lo sarà ancora più da pochi perché sarà nostra esclusiva, quindi lo troverete solo con Baobab. Quindi veramente questa è quella chicca che comunque tutti chiedono e tutti vogliono per stare nel cuore di Ibiza e viverla assieme ai suoi abitanti. Non mi resta quindi che che augurarvi buone vendite e alla prossima destinazione!